Pronti, vamos? Intanto complimenti per questa promozione e sei per il secondo anno con la politica per la natura della TV e quest'anno hai ricevuto anche un premio importantissimo e il premio fabbito, un premio che tanti aspirano mai andato No, diciamo che sono contentissimo perché quest'anno sono riuscito a coincidere le due cose perché ho visto il capo di una niente, non è andato bene e quest'anno sono contenti di avere il premio di campionati e poi ci sono anche dei riusciti, è un po' di unico del soggetto Che significa per te? Che significa per te? Io già l'anno scorso volevo vincere sui modi, ho deciso un altro anno però è arrivato al momento giusto ho ancora questa voglia di voler fare la materia e di poterla fare ma è un bel premio di giusto e quindi vediamo il quale è un bel premio di giusto ma dei vedi ci manca A voi Ok Allora, benissimo qua, ho sempre messo Oooooooooooooooooooo A chi va? Eh, forse. Salvatmo. Fai il muo salvaggio. Alla prossima sessione.